Buongiorno a tutti, ci prendiamo come sempre qualche minuto di tempo in attesa che tutti i partecipanti possano accedere alla piattaforma per poter poi cominciare questo webinar. Benvenuti, questo è il primo webinar di un ciclo, un format ideato dall'Università di Siena, è un format formativo e informativo sull'Europa che quest'anno avrà un focus particolare sulla programmazione dei fondi europei per il periodo 2021-2027. Nasce dalla collaborazione di tre centri Europe Direct, lo Europe Direct Roma Innovazione ospitato dal Forma XPA, lo Europe Direct di Siena ospitato dall'Università di Siena e lo Europe Direct Trapani ospitato dal Consorzio Universitario della provincia di Trapani. Ma abbiamo anche altri partner dell'iniziativa di cui poi vi dirà il professor Montini che interverrà dopo di me per un breve saluto. Vedo che avete problemi di audio, me lo confermate tutti che avete problemi di audio perché a volte i problemi di audio possono dipendere dal vostro collegamento o di casa o di ufficio. Non è detto che tutti abbiano problemi di audio, quindi cortesemente se in chat ci potete far sapere, infatti sentono tutti bene. Quindi non sentono bene soltanto che hanno problemi di collegamento da casa. Quindi come vi dicevo questo è il primo webinar, oggi cominciamo con una lezione di storia per vedere appunto come si è passata dalla comunità europea all'Unione Europea. E quindi il professor Pasquinucci che ringraziamo già da ora ci illustrerà un po' quelli che sono stati i passaggi chiave della storia dell'integrazione europea. Ora vi do qualche indicazione tecnica, voi per essere iscritti siete entrati nella pagina ed avete effettuato l'iscrizione al webinar. Siccome questo è un ciclo, per poter partecipare a tutti gli altri eventi del ciclo dovrete poi iscrivervi a ogni singolo evento. Se scorrete la pagina attraverso cui siete entrati oggi, come vedete trovate anche tutti gli altri eventi del ciclo. La prossima settimana abbiamo un appuntamento importante perché celebreremo l'anno europeo delle ferrovie. Vi invito a partecipare perché sarà molto interessante in quanto abbiamo coinvolto il responsabile del PON Infrastrutture e Reti che ci racconterà un po' lo stato di attuazione della rete ferroviaria in Italia e quali le prospettive per il futuro attraverso i finanziamenti dell'Unione Europea. E poi parleremo anche dei treni ad idrogeno, infatti ci sarà l'amministratore delegato delle ferrovie Nord che avrà una duplice veste perché parteciperà anche qua in quanto responsabile dell'FNM. Quindi questo è un appuntamento che abbiamo il 16 marzo. A differenza degli altri appuntamenti che avranno tutti una durata di un'ora e mezzo, l'appuntamento della prossima settimana sarà di due ore perché abbiamo un calendario fitto di relatori. Tutti gli eventi che vedete evidenziati in blu sono gli eventi per i quali vi potete già iscrivere. Vi annuncio che ieri sera abbiamo aperto le iscrizioni anche per l'evento del 30 marzo sul recovery plan europeo e i piani nazionali per la presidenza e la resilienza e l'evento del 20 aprile, la transizione ecologica e la sfida economica circolare. Quindi fino al 27 aprile, quando parleremo poi di transizione digitale, per tutti questi eventi potete sin da ora già registrarvi. Dal 4 maggio devo farvi una premessa. Tutti e tre gli EDIC sono in attesa di valutazione da parte della Commissione Europea per essere riconfermati come EDIC in quanto abbiamo partecipato al bando per il rinnovo della rete degli Europe Direct per i prossimi 5 anni. Siccome ancora non conosciamo l'esito di questa selezione, noi abbiamo confermato fino al 27 aprile tutti gli eventi perché fino al 27 aprile gli EDIC attualmente esistenti sono stati prorogati. Non sappiamo quello che succederà da maggio in poi. Quindi noi speriamo che durante questo ciclo di webinar conosceremo gli esiti di questa selezione e quindi ve li comunicheremo, ma principalmente vedrete in linea se tutti e tre gli EDIC vengono confermati, vedrete in linea la possibilità di iscriversi per gli eventi che partiranno dal 4 maggio per concludersi definitivamente il 15 giugno. Quindi come vi dicevo prima, vi dovete iscrivere ad ogni singolo webinar. Ricordatevi di utilizzare la procedura che viene indicata nei link che però trovate anche in calce a tutte le nostre comunicazioni, a tutti i nostri inviti. Per quanto riguarda l'accesso, attendete il link e le credenziali di accesso alla mattina dell'evento. Noi in genere li inviamo la sera prima dopo l'orario di scadenza delle iscrizioni che abbiamo fissato sempre per il lunedì sera alle ore 20. L'aula non si apre mai prima dell'orario indicato nella pagina dell'evento e se non ricevete il link ricordatevi sempre di andare a vedere nello spam perché molte volte finisce lì e quindi voi non riuscite a trovarlo nelle mail in arrivo. Un'altra cosa vi dobbiamo chiedere un po' di pazienza. Noi vi invieremo l'attestato di iscrizione. L'unica cosa per potervi inviare l'attestato di iscrizione noi dobbiamo verificare effettivamente la vostra partecipazione. Una volta fatta questa verifica che prende almeno una settimana di tempo vi sarà inviata una mail da parte dello staff che vi dirà che siete stati attestati e dopodiché dovete accedere nella pagina dell'evento compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Vi ricordo sempre il nostro Focus Europa europa.formets.it Vi ricordo sempre che sul nostro Focus Europa abbiamo delle banche dati che sono indicate nel box rosso evidenziate dalla freccetta rossa dove trovate tutta una serie di programmi comunitari ma trovate anche programmi comunitari sotto forma di bozze per il periodo 2021-2027. Man mano che verranno pubblicate sulla prezzetta ufficiale dell'Unione Europea le decisioni di approvazione di questi programmi noi aggiorneremo le schede. Intanto sono già disponibili la banca dati bandi scadenza perché per esempio per alcuni programmi come il programma Horizon sono stati già pubblicati alcuni bandi anche prima di aver adottato i programmi definitivi. In più abbiamo anche una banca dati eventi dove diamo comunicazione anche di eventuali giornate informative che vengono organizzate dai punti di contatto nazionale inerenti ai nuovi strumenti finanziari 2021-2027. Inoltre vi ricordo se volete essere informati sulle nostre iniziative e vi prego di farlo vi dovete iscrivere alla nostra newsletter e dare il consenso al trattamento dei dati perché questo è l'unica elenco che noi possiamo utilizzare per potervi guiare gli inviti in quanto ci serve il consenso al trattamento dei dati senza quello noi non possiamo utilizzare alcun tipo di mailing list. Vi ricordiamo poi che abbiamo sempre uno sportello informativo che in tempi di Covid non è in presenza ma è online attraverso questa piattaforma mandateci un'email a europedirect.com.it e noi vi fisseremo un appuntamento. Vi ricordo che oltre al focus web europa.formes.it alimentiamo con le nostre notizie anche il focus web programmicomunitari.formes.it che è un focus che si occupa nello specifico di strumenti finanziari diretti poi abbiamo un focus interamente dedicato all'innovazione digitale che è il gov.formes.it e in più noi aggiorniamo con le nostre notizie anche il focus web formazione.formes.it abbiamo un canale youtube al quale potete iscrivervi dove trovate sia le registrazioni dei webinar ma trovate anche il link a prodotti video che abbiamo realizzato nell'ambito delle nostre iniziative così come noi abbiamo un account twitter vi ricordo pure che questo webinar sarà disponibile tra qualche giorno registrato sulla pagina dell'evento io ora mi fermo e lascio la parola al professor Montini professor Montini dovrebbe attivare il microfono e la webcam eccoci qua, buongiorno a tutti allora, buongiorno a tutti anche da parte mia un piccolissimo, brevissimo saluto per non togliere spazio al nostro, al collega, amico professor Pasquinucci e solo appunto un saluto in questa giornata di oggi in cui inauguriamo questa nuova serie delle lezioni d'Europa quest'anno come sapete ci sarà spazio per qualche lezione iniziale e introduttiva come di consueto e poi ci concentreremo come avete visto dal programma su vari temi di attualità in questa prima parte nel periodo di marzo-aprile in particolare sui temi del recovery fund e dei relativi piani nazionali delle transizioni, transizione verde, transizione ecologica e poi ci saranno gli interventi sulla transizione digitale e l'iniziativa speciale della prossima settimana sull'anno europeo delle ferrovie quindi è solo da parte mia un saluto da parte dell'Università di Siena anche quest'anno rilanciamo la collaborazione con gli altri due Europe Direct Roma Innovazione e Europe Direct di Trapani siamo felici di questa collaborazione ovviamente anche con il Formez che mette a disposizione la piattaforma e quindi ringrazio tutte le colleghe che lavorano per rendere possibile questo evento e ringrazio anche gli altri due partner locali con i quali noi lavoriamo su Siena che sono l'Università per stranieri di Siena che parteciperà anche con dei relatori in questo ciclo di seminari nelle prossime lezioni e l'azienda regionale per il diritto allo studio della regione toscana che anche supporta questa iniziativa quindi io non rubo altro tempo ci sarà occasione di rivedersi con me anche come relatore nelle prossime lezioni quindi lascio subito la parola al collega, al professor Pasquinucci che oggi ha il compito appunto di dare il via a questo nuovo ciclo di lezioni d'Europa grazie a tutti ancora e grazie anche ai partecipanti molto numerosi anche oggi grazie bene, grazie grazie a tutti voi buongiorno ovviamente grazie agli organizzatori per avermi invitato a questa presentazione il mio compito spero che mi sentiate bene il mio compito è quello di offrire una panoramica storica cioè del processo che ha condotto dalle prime comunità europee che furono istituiti all'inizio degli anni 50 nel corso degli anni 50 fino al passaggio importante evidentemente nella storia dell'integrazione europea che ha portato alla nascita dell'Unione Europea ora si tratta di più o meno 70 anni di storia e quindi diciamo per rendere possibile quest'analisi ho deciso di adottare una prospettiva un punto di vista un po' particolare e questo punto di vista particolare è volto soprattutto a mettere in luce quanto importante sia stato il processo di integrazione europea per stabilizzare il continente in particolare inizialmente la sua parte occidentale perché come saprete il processo di integrazione europea fu inizialmente un processo limitato alla parte occidentale poi vedremo le ragioni di questo e in particolare l'altra diciamo ottica l'altra prospettiva che adotterò è quella del processo di integrazione europea come strumento per vincere la pace questa espressione vincere la pace può sembrare curiosa in realtà vuole mettere in luce come le comunità susseguitesi a partire dagli anni 50 e l'intero processo di integrazione europea sia stato un processo che è riuscito diciamo che ha contribuito non è stata certamente l'unica ragione forse nemmeno la ragione principale ma ha contribuito a creare un ambiente in Europa utile e diciamo strumentale al mantenimento della pace il processo di integrazione europea nasce dopo una guerra la seconda guerra mondiale quando le guerre terminano è sempre complicato è difficile costruire un ambiente che renda le guerre non dico impossibili ma diciamo complicate è sempre difficile rimediare porre rimedio alle condizioni eliminare le condizioni che hanno consentito o favorito lo scoppio della guerra il processo di integrazione europea è invece stato un processo che ripeto ha contribuito a rendere impossibile la guerra in Europa per 70 anni o comunque diciamo a rendere la guerra come era nelle intenzioni di coloro che hanno creato il processo di integrazione europea impensabile e per comprendere quanto sia stata importante quanto siano state importanti le comunità europee il processo di integrazione europea andrò molto indietro nel tempo almeno rispetto a quello che ci si potrebbe attendere da una lezione dedicata all'interazione europea perché questa appunto è una lezione che richiama l'importanza della storia e per analizzare questa duplice prospettiva l'interazione europea come strumento per vincere la pace e quindi garantire e contribuire a garantire la pace in Europa e stabilizzare il continente vorrei iniziare questa nostra analisi da un evento che tutti conoscerete di cui tutti avete sentito parlare e cioè l'omicidio l'assassinio dell'arceduca Francesca Ferdinando d'Asburgo il 28 giugno 1914 a Sarajevo per mano di un nazionalista serbo bosniaco Gavrilo Princip che volendo protestare contro la casa regnante di Asburgo per diciamo per l'azione l'opera politica condotta da Asburgo in quella che diria poco sarà poi dopo la prima guerra mondiale la Jugoslavia il nazionalista Gavrilo Princip uccise l'erede al trono dell'impero austro-ungarico e questa fu diciamo la causa scatenante della prima guerra mondiale ovviamente la prima guerra mondiale aveva molte ragioni di medio lungo periodo questo fu la scintilla questo omicidio che portò appunto allo scatenamento di un bagno di sangue che causò la morte di decine di migliaia di persone in Europa e nel resto del mondo ora questo evento si colloca all'interno di un'Europa l'Europa fu ovviamente all'origine della prima guerra mondiale così come della seconda all'interno di un'Europa che era divisa in un sistema di alleanze caratterizzato da una contrapposizione tra due poli se così li vogliamo definire era tutto forché una Europa unita era un'Europa divisa tra una tripice alleanza che si era formata tra Gran Britannia Francia e Impero Russo da un lato e dall'altro lato vi era la cosiddetta tripice alleanza che si era compiuta nel 1882 quando l'Italia si era unita alla duplice alleanza precedentemente formata tra la Germania e l'Impero Austro-Ungarico questa era diciamo la costellazione europea del tempo stati che si contrapponevano in alleanze che formalmente erano difensive ma che venivano percepite come aggressive come potenziali minacce per la sicurezza nazionale degli stati che si contrapponevano fra di loro questa costellazione in seguito all'assassinio dell'Arciduca nel giugno del 1914 provoca una serie di provoca una serie di dichiarazioni di guerra che si rapidamente vengono che rapidamente vengono messe in campo dai diversi stati che componevano questo sistema di alleanze e tra la fine di luglio e l'inizio di agosto inizia la prima guerra mondiale l'Italia come sappiamo cambia campo l'Italia tradisce in qualche modo la tripice alleanza quindi tradisce l'Austria l'alleanza con l'Austria con la Germania e nel 1915 dopo che la guerra era già iniziata da poco meno di un anno l'Italia nel maggio del 1915 entra nella prima guerra mondiale a fianco della Francia e della Gran Bretagna attraverso il patto di Londra che era stato firmato dal nostro paese nell'aprile precedente ora non c'è bisogno che mi dilunghi troppo sugli eventi che riguardano la prima guerra mondiale fu una carneficina in mane provocò ripeto decine di milioni di morti e si concluse soltanto alla fine del 1918 ci si attendeva una guerra rapida in realtà durò molto più di quanto si pensasse comunque pensasse si concluse soltanto nel novembre del 1918 e quello che ci interessa analizzare adesso è come si conclude questa guerra come le potenze vincitrici della prima guerra mondiale cercano di organizzare l'Europa alla fine della grande guerra di questa tragedia lo fanno attraverso il trattato di Versailles il trattato di Versailles è un trattato che viene concepito come un trattato estremamente punitivo nei confronti della Germania che aveva appunto perso la prima guerra mondiale è una pace punitiva che produce in Germania quindi nel paese al cuore dell'Europa rancore e voglia di rivalza i tedeschi percepivano questo trattato come ingiusto perché eccessivamente punitivo nei loro confronti poi vedremo un attimo perché era così punitivo e perché in Germania il trattato che riporta la pace formalizza la pace in Europa fu considerato eccessivamente duro tanto dall'elite politica tedesca quanto dalla opinione pubblica di quel paese quindi il primo elemento è che chi vince la prima guerra mondiale intende punire il paese che è considerato il principale responsabile anche morale come vedremo della prima guerra mondiale e questo come vedremo era un argomento abbastanza abbastanza discutibile tutt'oggi si discute di questo argomento la seconda iniziativa che viene presa per cercare di creare un ambiente diciamo un sistema di sicurezza collettivo che funzionasse in Europa e nel mondo deriva da una idea promossa dall'allora presidente americano Woodrow Wilson e cioè l'idea di creare un organismo internazionale in qualche modo anche sopranazionale che consentisse di risolvere pacificamente attraverso il diritto internazionale le dispute che fossero insorte tra gli stati sovrani quindi un organismo che poi prese il nome di società delle nazioni che in qualche modo è l'antesignano delle Nazioni Unite create nel secondo dopoguerra che appunto avesse come scopo quello di evitare che i conflitti politico diplomatici territoriali o di altra natura insorti tra gli stati del mondo degenerassero in conflitti bellici in guerre e quindi venissero invece risolti attraverso le regole del diritto internazionale e per questo si crea una società delle nazioni l'idea era quella di contrapporre una governance mondiale e quindi un ordine mondiale alla sovranità nazionale assoluta in definitiva era una contrapposizione quindi tra ordine mondiale tra una organizzazione internazionale capace di garantire l'ordine mondiale contro l'anarchia quindi contro la mancanza di governo anarchia come sapete significa mancanza di governo e la mancanza di governo l'anarchia internazionale è considerata il frutto della sovranità assoluta degli stati nazionali che non riconoscono nulla al di sopra di se stessi e agiscono nello scenario internazionale avendo come unico criterio di azione e di valutazione il proprio interesse nazionale occorreva contemperare questi interessi nazionali con l'ordine internazionale che doveva essere garantito da questa organizzazione la società delle nazioni promossa appunto dal governo dal presidente americano tuttavia la società delle nazioni nasce con dei gravi con delle gravi disfunzionalità con dei gravi difetti carenze strutturali di questa società perché questa società in realtà questa società delle nazioni o lega delle nazioni non aveva alcun potere vincolante nei confronti degli stati membri e quindi non poteva imporre il proprio punto di vista non poteva imporre agli stati di risolvere pacificamente senza il ricorso alla guerra le controversie che fossero in sorte fra di loro l'altro aspetto fondamentale non meno importante che andava peraltro al di là della vicenda della società delle nazioni è che gli Stati Uniti che erano già emersi come una delle principali potenze mondiali decidono di non farne parte quindi paradossalmente gli Stati Uniti propongono questa organizzazione internazionale per risolvere pacificamente le controversie ma alla fine della prima guerra mondiale nel mondo politico americano prevalgono nel congresso americano prevalgono le tendenze isolazioniste cioè le tendenze che fanno sì che gli Stati Uniti tendano a ritirarsi all'interno dei propri confini e a non occuparsi delle vicende politiche politiche diplomatiche che si sviluppano al di fuori dei propri confini gli Stati Uniti quindi non non fanno parte della società delle nazioni benché ne fossero stati principali promotori e decidono di ritirarsi nel loro isolazionismo ciò che accade in Europa riguarda gli europei e gli Stati Uniti non si sentono vincolate ad intervenire da un punto di vista politico-diplomatico lo faranno certamente da un punto di vista economico-finanziario ma andando da un punto di vista diciamo politico-diplomatico nelle vicende che riguardano l'Europa quindi pace punitiva contro la Germania Stati Uniti che si ritirano e assenza di un organismo internazionale che possa contribuire a dirimere le liti i conflitti fra gli stati dopodiché si affermano gradualmente regimi autoritari e totalitari in Europa come vedremo perché il trattato di Versailles era così punitivo nei confronti della Germania per una serie di ragioni innanzitutto il trattato di Versailles all'articolo 231 stabileva una sorta di responsabilità morale della Germania gli statisti che definiscono questo trattato non avevano dubbi su chi fosse o sul paese a cui comunque dovesse essere attribuita la responsabilità principale esclusiva vorrei dire della prima guerra mondiale questo paese era la Germania ma era giusto questo era corretto questo è molto molto discutibile ancora oggi gli storici che si occupano delle cause che hanno portato alla prima guerra mondiale dibattono discutono tra di loro su dove trovare questa responsabilità su quale paese a quale paese assegnare questa responsabilità in realtà la questione sembra essere molto molto più complessa rispetto a come la vollero affrontare e risolvere i statisti i cosiddetti peacemakers riuniti a Parigi durante la conferenza che durò dal 1919 al 1920 per appunto stabilire i termini della pace e ricostituire un ordine europeo e mondiale erano così poco dubbiosi dubitavano così poco che inserirono nel trattato di Versailles che era quello che regolava la pace con la Germania in questo articolo 231 che diceva che i tedeschi erano responsabili morali e costringeva questo articolo la Germania a rifondare tutti gli stati che erano stati coinvolti in questa guerra le potenze vincitrici ovviamente delle perdite e dei danni subiti dai governi e dai cittadini di questi stati a causa della guerra quindi una responsabilità morale una sorta di stigma attribuito ai tedeschi che fu ovviamente che suscitò reazioni in Germania reazioni negative ostili nei confronti appunto delle potenze vincitrici riunite a Versailles per decidere il destino della Germania ma questo ovviamente non era tutto a Versailles la Germania fu sottoposta ad una dura punizione per quanto riguardava il suo territorio perché come vedete da questa mappa alla fine della prima guerra mondiale la Germania fu costretta a subire una serie di perdite territoriali tanto ad est quanto ad ovest il territorio tedesco venne grandemente ridotto in entrambi i versanti ad oriente ad esempio molti territori vennero ceduti alla Polonia che alla fine della prima guerra mondiale tornò ad esistere come stato sovrano la Polonia era stata smembrata alla fine del settecento fra l'impero russo zarista la Prussia e l'impero asburgico la Germania è costretta a cedere una porzione rilevante dei propri territori ad est a favore della Polonia ad ovest come vedete la Germania subisce la stessa sorte in particolare mi vorrei soffermare sull'Alsazia Lorena che viene restituita alla Francia l'Alsazia Lorena viene restituita alla Francia era territorio che era stato conquistato dalla Germania dalla Prussia per essere più precise nel 1870 71 nel corso della guerra combattuta contro la Francia per la reunificazione tedesca viene restituita c'è la demilitarizzazione di alcuni territori al confine con la Francia per garantire la sicurezza nazionale francese insomma anche da un punto di vista territoriale il Trattato di Versailles è estremamente punitivo nei confronti della Germania mi concentro sulla Germania perché è importante per la storia che sto raccontando naturalmente un atteggiamento punitivo fu preso anche rispetto agli altri stati che alleati della Germania avevano combattuto contro Francia Regno Unito e Russia e Italia questa pace ovviamente poi accanto a questo la Germania fu costretta a riparazioni di guerra ingenti estremamente ingenti capaci di mettere in ginocchio economicamente finanziariamente la Germania stessa quindi responsabilità morale perdita di vaste porzioni e quindi anche di popolazione tedesca del territorio e della popolazione tedesca a favore di altri stati e altro aspetto fondamentale riparazioni ingenti quindi somme di denaro ingenti che la Germania fu costretta a pagare alle potenze vincitrici tutto questo configurava la pace il trattato di Versailles la pace di Versailles come una sorta di pace cartaginese volta a mettere in ginocchio quel paese l'idea non era di riammettere la Germania all'interno dello scenario internazionale magari favorendo quei processi di democratizzazione che pure erano in corso in Germania perché in Germania alla fine della prima guerra mondiale si stabilisce la Repubblica di Weimar che era un interessante devo dire esperimento di democrazia e per un certo periodo tra il 24 e il 28 anche un esperimento che funzionò molto bene quindi non fu questo l'obiettivo delle potenze vincitrici ovvero restituire la Germania ripristinare lo status internazionale tedesco consentire alla Germania di reinserirsi potenza tra le potenze ma stavolta favorendone il processo di democratizzazione al contrario l'obiettivo fu quello di far sì che la Germania non costituisse più la minaccia per la pace europea per gli stati europei e lo si fece con questa pace alcuni lungimiranti personaggi del tempo intellettuali economisti politici militari e così via pensarono che ciò che si stava facendo era pericoloso perché le potenze vincitrici dimostravano di non saper vincere la pace cioè di non saper porre le condizioni perché non si ricreasse quella situazione che aveva portato alla guerra alla prima guerra mondiale tra questi John Maynard Keynes che fu forse il più grande economista del novecento tutti non avrete sentito parlare John Maynard Keynes conosceva molto bene il trattato di Versailles le discussioni il trattato di pace le discussioni che si fecero in quella in quella in quella sede perché fu membro fino a un certo punto della delegazione britannica a Versailles e Keynes prima ancora che iniziasse la conferenza di pace su cui scrisse un libro famosissimo intitolato le conseguenze economiche della pace che condannava il trattato di Versailles perché lo considerava nefasto per il futuro dell'Europa perché troppo duro troppo severo verso i tedeschi e verso la Germania ma sin dal mila novecentodiciassette quando l'idea di una pace punitiva nei confronti della Germania si andava diffondendo tra le cancellerie dell'intesa Keynes sapeva e si rendeva conto che le durissime riparazioni imposte dalla Germania sarebbero state appunto nefaste negative già nel mila novecentodiciassette scrisse alla madre questa frase cioè che una guerra una pace cartaginese imposta dalla Germania avrebbe portato alla scomparsa dell'ordine sociale come lo abbiamo fin qui conosciuto mentre Ferdinand Foch che aveva combattuto i tedeschi aveva combattuto i tedeschi come comandante era il comando degli alleati durante la prima guerra mondiale e gli stesso si rese conto seppur per motivi diversi rispetto a quelli individuati da Keynes che quello che si era firmato a Versailles non era un trattato di pace ma era un armistizio che sarebbe durato per vent'anni e direi che Foch e Keynes furono lungimiranti e videro bene quello che si andava che si andava preparando alla fine della prima guerra mondiale le potenze vincitrici avevano sbagliato molto e avevano posto le condizioni alcune condizioni perché in Germania e altrove si diffondessero idee progetti disegni volti a modificare completamente l'equilibrio creato alla fine della prima guerra mondiale da questi trattati di pace questa rivalza questa volontà di alterare questo equilibrio di modificarlo completamente fu una e questo deve essere chiaro non la principale né l'unica tanto meno ragione ma fu una delle ragioni che favorirono nel gennaio del 1933 l'avvento di Hitler al potere in Germania e l'avvento di Hitler al potere in Germania ovviamente innestò avviò quel processo di messa in discussione in maniera sempre più aggressiva da parte della Germania dell'equilibrio creato a Versailles ovviamente Hitler non fu il nazismo ovviamente come sappiamo fu un esperimento politico e non solo politico che riguardò la Germania ma negli anni tra gli anni 20 e 30 l'Europa fu attraversata da e conquistata da una serie di regimi fascisti filofascisti assimilabili al fascismo oltre che il regime nazista appunto che si instaura in Germania questo insieme di regimi mette in discussione l'assetto complessivo europeo in particolare la Germania come sappiamo fa tutta una serie di gesti prende tutta una serie di decisioni che alterano l'equilibrio i più importanti dei quali sono l'annessione della Cicoslovacchia e dell'Austria l'Anglos dell'Austria che appunto mettono chiaramente in evidenza la volontà tedesca di espandersi di assumere posizioni aggressive e tutto questo sfocerà poi nella seconda guerra mondiale che ovviamente ha moltissime spiegazioni che di nuovo mette l'Europa al centro di una guerra di una vera e propria carneficina ancora peggiore rispetto a quella che si era compiuta nel 1914 e 1918 e a cui si porrà fine soltanto nel maggio in Europa nel maggio del 1945 quando l'alleanza tra le potenze occidentali guidate dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna da un lato e l'Unione Sovietica guidata da Josip Stalin dall'altro riuscirà a sconfiggere la Germania e a riportare la pace in Europa questo che vi mostro è la mappa dell'Europa alla fine della seconda guerra mondiale vedete i territori liberati dall'armata rossa che voi sapete che l'Unione Sovietica era stata invasa dalle forze tedesche nel 1941 con l'operazione Barbarossa mentre precedentemente la Germania aveva invaso la Francia la Norvegia e gli altri stati che erano stati occupati nella parte occidentale dalla Germania la reazione sovietica e degli alleati aveva portato a questa configurazione che corrisponde alla famosa cortina di ferro cioè alla divisione dell'Europa dopo il 1945 dopo il 1945 prende avvio la cosiddetta guerra fredda gli alleati Stati Uniti Gran Bretagna Francia potenze occidentali da un lato e Unione Sovietica dall'altro si trasformano in nemici mortali e prende avvio quella che è la guerra fredda e in Europa la guerra fredda significa la divisione del continente in due blocchi contrapposti che corrispondono appunto a questa divisione che abbiamo visto a sua volta corrispondente all'avanzata delle forze militari alleate volte appunto a schiacciare la Germania e delle forze militari sovietiche che nel loro percorso per conquistare la Germania Berlino e la Germania conquistano appunto anche i territori dell'Europa centrale ed orientale che poi entrano a far parte della sfera di influenza sovietica alla fine della seconda guerra mondiale il mondo è diviso in due blocchi l'intero mondo la guerra fredda la guerra fredda è un evento che riguarda è un fatto è una realtà che riguarda una cornice che riguarda il mondo intero questa è una mappa particolare che consente di vedere come Unione Sovietica e Stati Uniti si fronteggiassero durante la guerra fredda erano due sistemi politici economici culturali sociali contrapposti non c'è bisogno che vi dica molto da questo punto di vista quindi il mondo era diviso in due blocchi guidati rispettivamente da Stati Uniti e Unione Sovietica ma il mondo a quel tempo era una sorta di matrioska una sorta di scatola cinese il mondo era contrapposto diviso in due blocchi l'Europa era divisa in due blocchi lo abbiamo già visto questi due blocchi in qualche modo saranno poi formalizzati in alleanze contrapposte il patto atlantico e poi la Nato che prendono avvia nel 1949 il patto atlantico guidato dagli Stati Uniti viene formalizzato nell'aprile del 1949 un'alleanza militare difensiva contro una possibile minaccia della Unione Sovietica da un lato nel 1955 il blocco guidato dalla Unione Sovietica reagirà a questa alleanza militare attraverso la formazione del patto di Varsavia quindi il mondo era diviso in due blocchi l'Europa era divisa in due blocchi l'Europa aveva una caratteristica era l'unico posto al mondo con l'eccezione della Corea in cui i due campi contrapposti si fronteggiavano avevano diciamo dei confini confini territoriali e questo evidentemente faceva dell'Europa un il potenziale luogo di inizio di una terza guerra mondiale proprio perché qui diciamo blocco sovietico e blocco guidato dagli americani si toccavano in qualche modo avevano dei confini territoriali l'unica eccezione era appunto la Corea e infatti nel 1950 nel giugno di quell'anno scoppierà una guerra in Corea tra la parte nord settentrionale e la parte meridionale di quel paese l'Europa però aveva al suo interno una ulteriore divisione che è fondamentale per la storia che vi sto raccontando e cioè la Germania era divisa tra una Germania orientale ed una Germania occidentale che poi si costituiranno rispettivamente Repubblica Democratica Tedesca e Repubblica Federale Tedesca la Germania orientale era controllata dall'Unione Sovietica era uno stato alleato satellite della Unione Sovietica la parte occidentale della Germania era sotto il controllo che faceva parte del blocco occidentale inoltre a conferma di questa sorta di matrioska di cui vi ho parlato Berlino la vecchia capitale della Germania era divisa tra una parte orientale Berlino Est controllata da Mosca e una parte occidentale che a un certo punto si riunifica e che così come si riunifica la Germania la parte occidentale della Germania che è controllata invece dalle potenze occidentali quindi questa era la situazione alla fine della seconda guerra mondiale e il problema che si pone alle classi dirigenti americane americane dei paesi dell'Europa occidentale e inizialmente anche alla Unione Sovietica era una domanda cruciale cosa fare della Germania ovviamente questa non era l'unica preoccupazione l'unica domanda a cui rispondere alla fine della seconda guerra mondiale l'Europa era devastata alla fine della seconda guerra mondiale quindi le questioni da risolvere erano molte ma tra le principali questioni da risolvere figurava cosa fare della Germania ora noi abbiamo visto che alla fine della prima guerra mondiale le potenze vincitrici non avevano avuto dubbi sul destino da riservare ai tedeschi punirli punirli severamente in modo da far sì che non rappresentassero più un pericolo per l'Europa e per il mondo la soluzione prospettata a Versailles ed infine applicata a Versailles evidentemente non era stata la migliore perché la Germania era riuscita a ristabilire il suo potere militare la sua potenza militare e a provocare un disastro di proporzione ancora maggiore rispetto a quelle che la Germania aveva provocato secondo le potenze vincitrici alla fine durante la prima guerra mondiale ora l'aspetto interessante è che talvolta la storia insegna qualcosa e alla fine della seconda guerra mondiale la storia in effetti sembrò una bussola per orientare le classi dirigenti delle potenze vincitrici relativamente al destino da riservare ai tedeschi ora abbiamo visto alla fine della prima guerra mondiale tutti attribuivano i vincitori attribuivano alla Germania la responsabilità della prima guerra mondiale e questo lo abbiamo detto molto controverso molto discutibile invece alla fine della prima della seconda guerra mondiale nessuno dotato di senno poteva dubitare di chi fosse il responsabile della seconda guerra mondiale era la Germania su questo nessuno poteva discutere nessuno poteva avere dubbi ragionevoli la Germania come vedete dalla immagine in alto a sinistra aveva provocato distruzione in tutta Europa con i suoi bombardamenti con i suoi eserci esercito con i suoi carri armati con i suoi soldati e così via questa è una foto di Londra bombardata sullo sfondo vedete la catedrale di St. Paul miracolosamente rimasta in piedi nonostante i bombardamenti tedeschi e questa era diciamo una immagine è un'immagine che rappresenta l'Europa intera o grandissima parte dell'Europa l'altra immagine nota molto conosciuta su cui non mi soffermo a lungo perché non c'è bisogno nel senso che tutti sapete dell'Olocausto dello sterminio di 6 milioni di ebrei circa 6 milioni di ebrei furono uccisi deliberatamente dai tedeschi nei campi di sterminio meno note forse sono le altre due immagini a destra in alto e in basso che dicono molto la prima dell'orrore nazista qui vedete Adolf Hitler che negli ultimi giorni del regime nazista quando le truppe alleate erano ormai alle porte dentro Berlino e lui era rinchiuso nel suo bunker lui in qualche modo usò obbligò non in qualche modo usò obbligò dei ragazzini a cui fece indossare gli uniformi dell'esercito tedesco per difendere Berlino quindi pur di difendere Berlino pur di difendere la sua stessa vita e diciamo ciò che rimaneva del regime nazista i gerarchi nazisti e Hitler non si peritarono di usare dei ragazzini dei bambini questi che vedete avranno avuto 8, 9, 10, 11 anni mandandoli a combattere contro i soldati sovietici e i soldati che stavano appunto liberando Berlino dal regime nazista e questo evidentemente segnara forse uno degli apici non l'ultimo degli orrori del regime nazista l'altra immagine è ancora più emblematica forse ancora meno conosciuta ed è l'immagine che rappresenta un evento indicativo significativo di ciò che si pensava dei tedeschi questa che vedete è una signora tedesca una donna tedesca che viveva in una cittadina vicina a un campo di sterminio in cui erano rinchiusi ebrei condannati a morte quando questa città e questo campo di sterminio vennero liberati in questo caso dagli americani il generale americano che liberò la città dal regime nazista e dal campo di sterminio obbligò gli abitanti che vivevano in quella città ad entrare dentro il campo perché vedessero con i loro occhi ciò che il regime aveva compiuto i danni gli orrori la carneficina che il regime aveva compiuto qual era il messaggio chiaro di questa iniziativa voi tedeschi voi tedeschi voi cittadini tedeschi siete anche voi responsabili diretti di ciò che il vostro regime ha compiuto la responsabilità non ricade solo sui gerarchi su Hitler su Goering su Bormann su von Ribbentrop eccetera eccetera ricade su tutta la Germania perché i tedeschi nulla hanno fatto per impedire questo massacro di inermi cittadini nulla hanno fatto per impedire che l'idra nazista si diffondesse in tutta Europa e portasse a questo esito così così orrorifico così così vergognoso c'era quindi l'idea ampiamente diffusa ancora una volta che la Germania intera dovesse pagare e pagare duramente per ciò che il suo regime i nazisti avessero compiuto questa non era un'idea diffusa soltanto tra i soldati eh diffusa soltanto tra gli ufficiali che avevano combattuto la guerra diffusa soltanto nelle opinioni pubbliche dell'americana o dell'Europa occidentale o di chi comunque aveva combattuto contro i tedeschi era un'idea che inizialmente si afferma anche dentro all'amministrazione americana e si afferma attraverso il piano Morgentau Morgentau Henry Morgentau era il segretario di stato al tesoro americano che durante il 1944 propone qualcosa di molto simile rispetto a quanto era stata proposta alla fine della prima guerra mondiale trasformare la Germania in una potenza agricola in uno stato agricolo la cosiddetta pastoralizzazione della Germania togliere alla Germania il suo apparato industriale in particolare le sue industrie pesanti per impedire che quell'apparato industriale potesse di nuovo sostenere un riarmo tedesco ovviamente l'esercito e il riarmo implica l'esistenza di una industria pesante non si può avere un esercito potente se non c'è un'industria pesante forte possente che sostenga il riarmo allora deindustrializzare la Germania trasformarla in un paese agricolo a vocazione agricola e pastoralizia quindi in definitiva condannare la Germania e i suoi abitanti a una sorta di sottosviluppo economico nel cuore dell'Europa e allo stesso tempo in modo simile a quanto era stato fatto alla fine della prima guerra mondiale trasformare il territorio tedesco trasformare il territorio tedesco dividendolo in una serie di stati divisi appunto stati sovrani smembrando quindi l'unità della Germania questo piano viene rapidamente messo da parte tra le potenze vincitrici memori di quanto era accaduto alla fine della prima guerra mondiale si decide di trattare la Germania diversamente e di trattarla diciamo in modo da ricostituire di reinserirla all'interno dello scenario internazionale al contempo favorendo il processo di democratizzazione che dalla fine della seconda guerra mondiale in poi era in corso all'interno di quel paese quindi invece di promuovere una pace punitiva un atteggiamento punitivo si cerca di aiutare la Germania reinserendola all'interno di un contesto internazionale diverso nuovo e al contempo favorendo il processo di democratizzazione ripeto che era in corso in Germania a partire dalla fine della seconda guerra mondiale mi soffermo ovviamente soprattutto dal punto diciamo sullo scenario internazionale e sul ruolo che l'interazione europea ebbe in questo contesto dopo la seconda guerra mondiale si stabilisce un nuovo ordine mondiale e un nuovo ordine europeo questi sono diciamo i principali passaggi che stabiliscono questo nuovo ordine e come vedete in molti di queste iniziative la Germania è inclusa da subito naturalmente e questo è fondamentale l'idea di favorire il reinserimento della Germania nello scenario internazionale fu dovuta anche allo scopio della guerra fredda la guerra fredda fece sì che il nemico non potesse più essere la Germania soprattutto la Germania federale perché come abbiamo visto la Germania era divisa in due parti in due blocchi il nuovo nemico era l'unione sovietica ed era un nemico mortale così mortale come mortale lo era stato la Germania tra il 39 e il 45 e la Germania venne reinserita nel sistema di sicurezza occidentale perché avrebbe potuto dare un importante contributo a questa lotta contro l'unione sovietica un contributo quindi alla battaglia per così dire che le potenze occidentali combattirono durante la guerra fredda contro l'unione sovietica non di meno non di meno questa prospettiva venne accettata il reinserimento della Germania venne accettato anche dalla Francia anche dalla Gran Bretagna cioè da quelle potenze che maggiormente avevano sofferto durante le due guerre mondiali l'aggressività tedesca e in particolare la Francia si fece promotrice nel maggio del 1950 di uno dei pilastri su cui si basò l'ordine occidentale cioè il processo di interazione europea il processo di interazione europea può essere appunto considerato come parte fondamentale come capitolo fondamentale nella costruzione dell'Occidente e attenzione inserire la Germania all'interno di questo pilastro occidentale attraverso un processo quello di integrazione europea che significava promuovere una collaborazione con i tedeschi e promuovere quindi nuovi rapporti con il vecchio e così truculento e minaccioso nemico della Germania significava avere una classe dirigente molto lungimirante capace di guardare al di là dei fatti contingenti ed immediati significava avere una classe dirigente ad esempio che riusciva ad andare al di là andare oltre quelle che erano le idee le opinioni dei propri cittadini e quindi del proprio elettorato questo che vedete è un sondaggio promosso da Gallup nel 1947 con il quale si chiedeva ai cittadini di questi stati quali sentimenti provassero nei confronti della Germania vorrei che vi concentraste sulla Francia solo il 3% dei francesi sentiva sentimenti di amicizia verso la Germania il 56% percepiva sentimenti di inimicizia ed era ovvio a due anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale questo sondaggio fotografava l'opinione pubblica e l'attitudine dei cittadini francesi verso la Germania ma ancora più interessante il sondaggio successivo la domanda successiva il sondaggio era lo stesso perché si chiedeva ai cittadini di questi paesi di questi stessi paesi pensate che la Germania diventerà una nazione amante della pace democratica o una nazione aggressiva desiderosa di scatenare ancora una guerra e come vedete concentriamoci ancora sulla Francia perché sarà dalla Francia che verrà l'idea di promuovere l'interazione europea il 63% dei cittadini quindi due cittadini su tre quasi in Francia pensava che i tedeschi fossero antropologicamente guerra fondai questa non era più una fotografia questa era una sorta di marchio attribuito ai tedeschi i tedeschi vogliono la guerra questa era l'idea sono naturalmente inclini a promuovere conflitti e questo evidentemente gettava un'ombra sul futuro dei rapporti fra Francia e Germania se questa era l'idea se i tedeschi prima o poi di nuovo avrebbero provocato una guerra era difficile pensare per i cittadini francesi a instaurare di instaurare forme di collaborazioni tanto meno una comunità come invece di di a poco la Francia avrebbe proposto questo che cosa ci insegna ci insegna che fortunatamente per le persone che vivevano quei tempi le classi dirigenti di quei paesi erano capaci di non fermarsi ai sondaggi quindi di non fermarsi alle idee ai sentimenti legittimi comprensibili delle proprie opinioni pubbliche e dei propri elettorati ma erano capaci invece di avere visione di avere idee di lungo periodo e di comprendere che i sentimenti immediati dei cittadini ripeto comprensibili e giustificabili non potevano non dovevano necessariamente muovere la politica perché la politica se è buona politica deve avere una visione di lungo periodo dopodiché come in tutte le democrazie la Francia e gli altri paesi coinvolti in questo processo erano democrazie alla fine della legislatura i cittadini votano e valutano se queste visioni di lungo periodo sono virtuose o dannose e la classe politica francese in particolare un esponente della classe politica francese del tempo ebbe questa visione lungimirante capace di andare oltre i sentimenti immediati dell'opinione pubblica e questo signore fu Robert Schumann che al tempo era il ministro degli affari esteri francesi che recepì nel maggio del 1950 l'idea di un tecnocrate molto influente Jean Monnet e promosse l'inizio dell'interazione europea l'inizio dell'interazione europea attraverso la dichiarazione Schumann resa pronunciata il 9 maggio nel 1950 nel salone dell'orologio del Quai d'Orsay la sede del ministro degli esteri francesi che dà il via al processo di integrazione europea la dichiarazione Schumann era una dichiarazione molto interessante e tutta la dichiarazione Schumann ruota e questo è importante si collega a quello che vi dicevo prima ruota intorno al rapporto tra Francia e Germania Francia e Germania sono le basi e l'asse diciamo il tandem che è necessario per promuovere l'interazione europea e senza il quale l'interazione europea non si può fare l'interazione europea può fare a meno di tutti l'interazione europea affiscia a meno della Gran Bretagna la Gran Bretagna non aderì al processo di interazione europea ma il processo di interazione europea si fece la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea dopo il referendum sulla Brexit del 2016 l'Unione Europea è ancora lì due paesi erano indispensabili Francia e Germania a questi paesi poi si unirono l'Italia guidata da De Gasperi Alcide De Gasperi dal governo andiamo cristiano il Belgio l'Olanda e il Lussemburgo che dettero vita appunto alla prima comunità europea è la prima comunità e l'insistenza di Robert Schumann in questa slide e nelle seguenti non sto a descrivervi tanto credo che queste slide saranno poi messe a disposizione l'insistenza di Schumann sulla necessità di conciliare finalmente Francia e Germania mostra chiaramente come le classi dirigenti europee alla fine della seconda guerra mondiale dopo una iniziale esitazione che era anche comprensibile si aspettò cinque anni che comunque non sono molti se si considera l'impatto che ebbe la seconda guerra mondiale ebbero un'idea diversa l'idea di diciamo reinserire la Germania tra le nazioni amiche ripeto questo processo fu molto favorito anche dalla guerra fredda gli americani furono cruciali furono gli americani a spingere i francesi a fare pace con i tedeschi perché gli americani comprendevano benissimo l'importanza che la Germania avrebbe potuto avere per contrastare l'unione sovietica ma i francesi aderirono dopo una iniziale esitazione a questa idea e fu la Francia a proporre il processo di interazione europea e fu la Francia a favorire appunto la instaurazione la creazione di nuovi di nuovi rapporti tra Francia e Germania e i paesi che creano il processo di interazione europea che ruolo ebbero i cittadini in tutto questo ai cittadini non fu mai chiesta un'opinione sul processo di interazione europea e qui c'è una frase di Jean Monnet estremamente significativa sarebbe stato sbagliato disse Jean Monnet chiedere l'opinione dei cittadini sulla prima comunità perché la dichiarazione Schumann crea la comunità europea del carbone e dell'acciaio sarebbe stato sbagliato consultare i popoli d'Europa sulla struttura di una comunità della quale essi non hanno alcuna esperienza pratica questa può sembrare un punto di vista elitario poco democratico non lo è affatto non lo è affatto per i motivi che vi dicevo prima perché la classe politica del tempo si prese la responsabilità di una decisione cruciale fondamentale creare le comunità europee quella classe politica era legittimata dal voto dei cittadini i cittadini alla fine della legislatura avrebbero con il voto sancito e sanzionato se quella politica era condivisibile o meno quindi il punto di vista era niente affatto elitario ma era un punto di vista estremamente ragionevole nasce la comunità economica europea del carbone dell'acciaio con questi primi sei paesi da lì in poi prende il via il processo di interesse europea che avrà varie fasi dagli anni 50 fino all'inizio degli anni 90 in particolare vi cito rapidamente i trattati di Roma del 1957 che dettero vita la comunità economica europea è la comunità dell'energia atomica Euratom ovviamente la comunità dell'energia atomica era una comunità creata per lo sfruttamento a fini civili pacifici dell'energia atomica e questa comunità conosce un grandissimo sviluppo fino ad arrivare alla fine degli anni 80 che analizzo per mostrarvi la transizione verso l'unione europea cercherò di essere rapido e per mostrarvi come ancora una volta è decisiva la guerra fredda e ancora una volta è decisiva la Germania la questione tedesca torna qual è il punto di inizio della storia che porta alla nascita dell'unione europea il punto di inizio è il crollo del muro di Berlino nel novembre 1989 che annuncia la fine dei regimi comunisti nell'Europa centro orientale e la fine diciamo il muro di Berlino non annuncia la fine dell'unione sovietica ma diciamo sarà il processo porterà alla fine del 1991 a un evento di straordinaria importanza che nessuno pensava accadesse almeno in termini così rapidi direi rapidi in modo sconvolgente ovvero la fine dell'unione sovietica il collasso dell'unione sovietica che cosa significò per l'interazione europea immediatamente immediatamente che cosa significò il crollo del muro di Berlino significò la possibilità che poi dipende certezza della riunificazione tedesca cioè la nascita la rinascita dentro l'Europa di una grande Germania la riunificazione tedesca la rinascita di una grande Germania di una Germania unita 80 milioni più o meno di tedeschi al cuore dell'Europa suscitò vecchie paure vecchi timori ansie dentro le cancellerie i governi di tutti o di gran parte degli stati dell'Europa occidentale e non solo dell'Europa occidentale ovviamente ma è quella che ci interessa rispetto al processo di interazione europea in particolare in Francia ma anche in Italia e in Gran Bretagna la Gran Bretagna Margaret Thatcher che era la leader conservatrice ai tempi in cui la riunificazione prende il via e poi si compie era forse la principale oppositrice della riunificazione tedesca ma i principali protagonisti di questo processo rispetto all'interazione europea furono il presidente francese François Mitterrand ed Helmut Kohl come risolvere questa nuova questione tedesca diciamo data dalla riunificazione della Germania come riuscire ad assorbire l'impatto di questa riunificazione tedesca senza alterare gli equilibri europei e senza suscitare nuovi timori in Europa di una egemonia tedesca sotto nuove forme chissà quali ebbene la soluzione ancora una volta così come era stata negli anni 50 era lo sviluppo della integrazione europea assorbire l'impatto della riunificazione tedesca inserendo con ancora maggior forza la Germania dentro il contesto europeo ovvero incrementando ancora di più i legami che univano la Germania agli altri paesi europei e questi legami ovviamente nella visione mitterrandiana della Francia dico ovviamente perché conosciamo la storia significavano creare il trattato di Maastricht e creare la moneta unica ovvero assorbire la forza economica tedesca e la forza monetaria tedesca dentro l'Unione Europea dentro una nuova Unione Europea comunitarizzare il marco sottrarre la politica monetaria tedesca dalla esclusiva sovranità tedesca e comunitarizzare la politica monetaria tedesca mettendola all'interno di una struttura europea e questa struttura europea era la banca centrale europea e ovviamente la moneta unica la moneta unica fu il prezzo qui semplifico un po' ma fino a un certo punto fu il prezzo pagato dai tedeschi per convincere gli altri paesi europei a dare il via libera alla riunificazione della Germania perché l'euro la moneta unica mostrava chiaramente che la Germania non voleva attraverso l'unificazione promuovere un processo di egemonia monetaria ed economica all'interno dell'Unione Europea ma era disposta a fondere la propria politica monetaria e il marco in un contesto più ampio si trattava cioè nell'ottica del cancelliere tedesco del tempo Helmut Kohl che fu il grande artefice di questo processo di europeizzare ulteriormente la Germania invece che creare una Germania europea e questa era la famosa dicotomia la famosa distinzione che fu fatta sin dal 1953 da un famosissimo scrittore tedesco Thomas Mann che affermò che la responsabilità della nuova generazione di tedeschi cioè quella generazione che non era stata direttamente coinvolta nell'ascesa di Hitler e del nazismo era quello di rendere la Germania sempre più europea cioè fondere la Germania all'interno dell'Europa in modo da evitare che risorgessero i vecchi fantasmi piuttosto che piuttosto che come aveva fatto Hitler e i gerarchi e i schierani nazisti creare una Europa germanizzata cioè una Europa egemonizzata dalla Germania la fine della guerra fredda e la riunificazione tedesca quindi porta Francia in particolare Francia e Germania a trovare questo accordo la Francia dà il via libera alla Germania perché questa si riunificasse la Germania accetta di comunitarizzare la propria politica monetaria e allo stesso tempo di creare una nuova struttura una nuova comunità che prende la forma attraverso il trattato di Maastricht nel trattato e nella Unione Europea basata su tre pilastri i tre pilastri che vengono stabiliti tra il 1990 e il 1991 durante la conferenza intergovernativa che porta alla nascita del trattato di Maastricht poi alla firma del medesimo e quindi alla fondazione dell'Unione Europea i tre pilastri erano la comunità europea cioè tutto quello che la comunità europea aveva creato ai tempi tra gli anni 50 e la fine degli anni e la fine degli anni 80 la politica estera e di sicurezza comune che era una novità sancita a Maastricht che avrebbe dovuto nelle intenzioni di chi la promosse dare maggior capacità di azione alla Unione Europea nello scenario internazionale ma in realtà questo avvenne solo parzialmente perché la politica estera di sicurezza comune sin dall'inizio fu subordinata alle decisioni alla unanimità e le decisioni alla unanimità sono sempre difficili da prendere e il terzo pilastro è la cooperazione la giustizia affari interni cioè la cooperazione di pulizia giudiziaria in materia penale Maastricht quindi fu fondamentale perché dette il via al processo che avrebbe portato alla nascita della Unione Economica e Monetaria questa Unione Economica e Monetaria era subordinata sottoposta a criteri di convergenza molto rigidi che facevano sì che hanno fatto sì che effettivamente la politica monetaria tedesca e l'euro fosse in qualche modo di ispirazione tedesca in qualche modo l'euro come dicono molti con intento polemico ma non vanno lontano dal vero l'euro è un marco europeizzato e questo è in dubbio e questi sono i criteri di convergenza che fu necessario rispettare per i paesi che vollero entrare dentro la zona euro tra i quali l'Italia che combatte molto diciamo gli italiani fecero molti sacrifici nella seconda metà degli anni 90 per entrare nella zona euro e il trattato di Maastricht dette vita anche alla banca centrale europea che è l'organismo l'istituzione che oggi sovrintende la politica monetaria che è anch'essa diciamo frutto di un modello tedesco un modello di ispirazione tedesca che sostanzialmente ha come obiettivo principale il controllo dell'inflazione secondo appunto la volontà tedesca ed è completamente indipendente dalle indicazioni del potere politico e quindi sia delle istituzioni politiche che operano sul piano della Unione Europea sia ovviamente delle indicazioni politiche che arrivano dalla politica nazionale per così dire quindi tutta l'architettura di Maastricht l'architettura che riguarda la politica monetaria è basata sul modello tedesco questo fu il pedaggio pagato dalla Germania la Germania paga diciamo accetta l'euro in cambio della riunificazione tedesca ma in qualche modo spinge gli stati i governi dell'Europa dei paesi che facevano parte dell'Unione Europea ad accettare i standard i criteri di ispirazione tedesca nella definizione della politica monetaria ai tempi dell'euro quindi in conclusione tanto l'avvio del processo di interazione europea negli anni 50 quanto la rinascita la rifondazione si può parlare di parziale rifondazione della Unione Europea all'inizio degli anni 90 sono fortemente condizionati dalla guerra fredda l'inizio della guerra fredda negli anni 50 la fine della guerra fredda alla fine degli anni 80 inizio anni 90 e dalla questione tedesca la questione tedesca è cruciale per spingere la Francia ad accettare la comunità europea e a reinserire la Germania nello scenario internazionale la riunificazione tedesca la nuova questione tedesca è fondamentale per spingere tutti i paesi dell'Europa comunitaria ma soprattutto la Francia a immaginare forme di maggiori forme volte a creare maggiori vincoli ad inserire con ancora maggior forza la Germania nel contesto europeo per impedire che la Germania la grande Germania riunificasse agisse in modo solitario da sola destabilizzando ciò che si era creato alla fine della seconda guerra mondiale e lo si fa appunto attraverso il trattato di Maastricht e in particolare attraverso la creazione della politica monetaria oggi comune oggi si parla e chiudo di egemonia tedesca in Unione Europea si usano varie formule varie locuzioni per esprimere questa situazione questa condizione di predominio di prevalenza tedesca all'interno dell'Unione Europea si usa l'espressione egemonia vulnerabile egemonia riduttante egemonia deliberata si parla del passato che non passa cioè di una vocazione tedesca appunto al controllo all'egemonia al dominio tutte questioni evidentemente potrebbero essere analizzate a lungo non c'è alcun dubbio che la Germania è il paese più influente all'interno dell'Unione Europea è il paese più popoloso è il paese più ricco è il paese che ha le maggiori risorse anche in campo politico in qualche modo è un paese che prende seriamente l'Unione Europea l'interazione europea è un paese che invia nelle sedi comunitarie persone capaci abili competenti che sanno difendere anche l'interesse tedesco quando è il caso vorrei solo ricordare a tutti un aspetto che è fondamentale comunque quale che sia il giudizio che si voglia dare del ruolo tedesco dentro l'Unione Europea il punto fondamentale è che la grande influenza tedesca dentro l'Unione Europea è frutto prima di tutto della adozione sempre più chiara di uno specifico approccio al processo di interazione europea l'interazione europea può essere è stata fondata e può essere sviluppata attraverso tutta una serie di approcci l'Unione Europea così come oggi non è diciamo caduta dal cielo è il frutto di precise scelte politiche di precise idee di interazione europea che però non erano le uniche possibili l'interazione europea può prendere strade diverse e soprattutto a partire dalla crisi della zona euro in avanti ma questo processo che si è manifestato anche prima ma è divenuto appunto ancora più chiaro dopo la crisi della zona euro che si è sviluppata tra il 2010 e il 2011 l'interazione europea e la Unione Europea è divenuta sempre più intergovernativa cioè sono sempre meno importanti le istituzioni sovranazionali quelle che rappresentano l'interesse generale europeo e sono sempre più importanti le decisioni che vengono prese dai governi che fanno parte dell'Unione Europea e ovviamente nelle istituzioni che rappresentano gli interessi nazionali e nelle istituzioni che sono fatte composte da rappresentanti dei governi nazionali si parla molto di MES ad esempio il famoso meccanismo europeo di stabilità e lo si critica lo si contesta con argomenti che sono evidentemente legittimi bisognerebbe anche ricordare che il MES è un accordo intergovernativo che è stato creato al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea ed è quindi un accordo tra governi negli stati membri ed è in definitiva gestito dai governi negli stati membri quindi questo approccio intergovernativo è sempre più chiaro ed è sempre meno importante invece l'approccio funzionalista o quello che possiamo definire politico che dà maggiore importanza alle istituzioni sovranazionali ed è abbastanza evidente non bisogna stupirsi se diciamo l'approccio intergovernativo che non è stato imposto dalla Germania al contrario è spesso imposto da altri paesi quindi un approccio al cui interno contano i governi è chiaro che se questo è l'approccio e se la strada scelta per promuovere il processo di interazione europea è un approccio che dà un ruolo maggiore agli interessi nazionali e alla volontà dei singoli governi che compongono l'Unione Europea è inevitabile che i governi più forti perché sono quelli politicamente più solidi perché sono quelli che hanno alle spalle una economia più forte perché sono quelli che hanno anche risorse geopolitiche e così via più solide finiscano per prevalere quindi in un certo senso il crescente in dubbio influsso e la crescente in dubbio influenza che la Germania esercita all'interno del processo di interazione europea dell'Unione Europea è anche il frutto di precise scelte che non ricadono esclusivamente e talvolta nemmeno principalmente non ricadono e non possono essere attribuita la responsabilità di Berlino e del governo tedesco con questo concludo vi ringrazio per l'attenzione e sono ovviamente disponibile per le vostre domande grazie mille professore vi dico la lezione è stata chiarissima molto interessante non è solo la mia opinione ma anche l'opinione dei partecipanti perché vedo che hanno scritto dei commenti in tal senso nella chat prima di lasciarvi innanzitutto ringrazio il professor Pasquinucci per questa interessante puntata su di storia io sono un amante della storia quindi chiaramente per me è il massimo poter ascoltare una lezione così interessante avevo scritto in chat ma ve lo dico di nuovo a voce a tutti c'è un bellissimo vi segnalo un bellissimo film sotto la sabbia questo è un film danese ed è un film proprio sulla storia di questi soldati quindicenni che a un certo punto aveva messo in campo la Germania che alla fine della guerra restano prigionieri in Danimarca e vengono utilizzati dai danesi per liberare le spiagge dalle mine che erano state proprio lanciate dai nazisti e chiaramente questo all'inizio il capitano danese era molto duro perché comunque li vedeva come nemici poi quando si desse conto che quelli erano ragazzi giovani in realtà vittime anche loro di una guerra cambia atteggiamento e fa di tutto anche per salvarli quindi è un film storico molto interessante su un episodio della guerra di noi poco conosciuto ma in realtà era tratto da una storia vera allora passo ai ringraziamenti innanzitutto oltre al professor Pasquilucci all'Europe Direct di Siera nella persona di Angelita Campriani e allo Europe Direct di Trapani nella persona di Marta Ferrantelli con le quali ormai collaboriamo da un paio d'anni in maniera stretta su questi eventi vi aspetto il prossimo 16 marzo sull'evento per celebrare l'anno europeo delle ferrovie che vi ricordo è una delle azioni previste dal Green Deal europeo e quindi questo anno è una delle azioni contemplate dal Green Deal europeo che è voluta fortemente dalla Commissione europea e poi vi ricordo che sia la registrazione del webinar che le presentazioni che sono state proiettate stamattina saranno disponibili sulla pagina dell'evento attraverso il quale vi siete registrati ma non da subito nel senso ci dobbiamo lavorare quindi cortesemente dateci qualche giorno di tempo sia per attestare le vostre presenze ma anche per caricare slide e videoregistrazione anzi siate cortesemente collaborativi non ci mandate mail per sollecitarci perché anche noi abbiamo i nostri tempi di lavoro e quindi per noi poi rispondere alle mail ci fa perdere ancora più tempo e quindi poi queste cose saranno sempre più saranno disponibili sempre più lentamente quindi vi conto sulla vostra collaborazione ringrazio tutti i partecipanti ma ringrazio anche gli Europe Direct che non ho menzionato ma che comunque ho visto tra i partecipanti questa mattina spero di non aver dimenticato nulla chiedo alle mie colleghe se ho dimenticato qualcosa di ricordarmelo se non ho dimenticato nulla io vi ringrazio vi attestati sì un attimo perché le mie colleghe mi stanno suggerendo qualcosa ah sì questo è importante da chiarire gli attestati li riceveranno solo coloro che hanno seguito la procedura di iscrizione regolare cioè che prima dell'evento sono andati sul sito si sono iscritti coloro che non hanno fatto questo passaggio ma che hanno chiesto l'ultimo momento di essere accettati e che quindi noi abbiamo ammesso come ospiti purtroppo non potranno ricevere l'attestato di iscrizione perché non vengono tracciati dal nostro sistema quindi per le prossime volte vi chiediamo calorosamente di seguire la procedura formale per l'iscrizione al webinar quindi vi ricordo il prossimo appuntamento è il 16 marzo per celebrare l'anno europeo delle ferrovie le iscrizioni si chiudono la sera precedente alle ore 20 soltanto dopo quell'ora riceverete la mail per comunicarvi quale sarà il link da utilizzare per la partecipazione al webinar quindi io spero di non ci sono altre domande vedo nessuna domanda quindi vi ringrazio ringrazio di nuovo il professor Pasquilucci il professor Montini e alla prossima allora ci vediamo il 16 marzo grazie a voi arrivederci a tutti arrivederci arrivederci arrivederci